Io sono contento, sono contento perché così, cioè contento a livello sportivo no, a livello di risultato no, perché comunque abbiamo perso, perdere da fastidio a tutti quanti. Però così, chi da agosto, da giugno, non so da quando, da luglio ha iniziato a dire a Tripalda, Vellino, qua, Vellino, là, si è reso conto che non è così. Dirigenti, tifosi, addetti ai lavori, chiunque, d'accordo? Solo ha perso domenica scorsa, sì, ha preso un punto, noi abbiamo perso contro una squadra che ci costringeva a tirare tre volte in attacco per fare un punto. Una squadra brava per questo, fortunata perché noi non abbiamo giocato bene, ci è mancato assolutamente l'opposto, d'accordo? Meriti ce ne hanno, ce ne hanno tanti, noi abbiamo solamente dei meriti, però sono contento, perché così impariamo a venire qua, o a venire dall'altra parte, o a venire in tribuna, o andare in giro per strada e dire Avellino vince il campionato. Avellino non vince niente, d'accordo? Nessuno vince niente, va bene? Questo è il campionato di A2, questo è il campionato di A2. Domenica scorsa, tifosi che alla prima palla che sbagliamo in attacco si lamentano, io sono amico di tutti, ma ci metto un minuto a diventare nemico di tutti quanti, d'accordo? Castellana non fa testo, Castellana ha fatto una squadra per non arrivare ultima, d'accordo? Noi abbiamo fatto una squadra per non arrivare quarti, per arrivare magari prima del quarto posto perché l'abbiamo fatto lo scorso anno. Sono contento perché così la gente impara a parlare, va bene? Banks è un essere umano, sbaglia, va bene? Banks è un essere umano, sbaglia, oggi hanno giocato male tutti, posso spendere qualche parola di riguardo per Libraro, posso spendere una parola di riguardo per Cortina, posso spendere una parola di riguardo per Valsecchi magari verso la fine della partita, ma abbiamo giocato nella sostanza di gruppo, abbiamo giocato male tutti. Tutti, l'anno scorso contro Ortona è venuta qui, ci faceva attaccare tre volte per fare un punto, d'accordo? E la stessa cosa è successa oggi, loro, bravi perché ci hanno messo in difficoltà sotto questo punto di vista, fortunati perché hanno beccato Avellino che ha giocato male, perché è la prima partita in casa, perché Cantù è una squadra costruita con testa, non sbagliano mai, l'unico che ha sbagliato è Morelli e l'allenatore loro, al quarto set su un momento importante l'ha tolto, ha messo un altro posto, sono cose che succedono, io sono contento perché fuori di qua, dirigenti, tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, io ho sempre detto che la mia squadra è una squadra fortissima, non ho mai detto che questa squadra vince il campionato dalla prima all'ultima partita, non succede mai, statisticamente non succede mai, non è mai successo, Città di Castello ha perso. Lo scorso anno, sono contento, sportivamente sono molto nervoso, molto arrabbiato perché da allenatore della mia squadra per i miei giocatori che io difenderò sempre, sempre perché loro per qualche ingenuità del quarto set abbiamo perso, altrimenti noi portavamo a casa la partita, non è successo, merito degli avversari, fortuna degli avversari, Benz, Santucci, Paris, tutti i giocatori che giocano in questa squadra sono esseri umani, io sono amico di tutta Tripalda però ci metto un minuto a diventare nemico, un minuto ci metto, non ci vuole niente, non ci vuole niente, la gente mi ferma per strada, sono contentissimo, la gente mi invita a cena, a pranzo, sono contentissimo, però occhio, occhio perché la 2 è questa, Sora ha perso, Sora non è scarso, Avellino ha perso, adesso fuori di là, mentre vanno via a mangiare diranno tutti che Avellino è scarsa, che Benz non è un giocatore di pallavolo, che scappaticcia non è più quello dell'anno scorso, che l'allenatore è scarso, diranno questa roba qua. Prego a voi. Il vantaggio è ragione, nel senso che poi abbiamo gestito male, quando facevamo un break, tornavamo in battuta e sbagliavamo, l'unico che magari ha dato un po' di continuità è stato Enrico. L'assaltoflot, loro onestamente, dalla domenica scorsa a oggi hanno lavorato tanto e sono migliorati tantissimo. L'assaltoflot, poi sbagliando la battuta è chiaro che ti mette male cercare di recuperare, fino a quando tu fai il tuo cambio palla, ma hai 4 punti di svantaggio, poi è difficile se non fai il break. Abbiamo fatto questo, ma l'intesa tra Mario e Benz è in fase di costruzione. Durante la settimana è andata benissimo. Lui ha avuto problemi sicuramente oggettivi, problemi legati a qualche alzata sbagliata di Mario, ma soprattutto al suo lavoro. Ha avuto problemi al suo lavoro. Ha cercato le mani altissime quando loro invece erano ordinati, bassi. Quindi vi ricordate che abbiamo avuto una palla per il vantaggio che lui ha tirato fuori. Mi chiederete perché ho continuato a tenerlo in campo? Perché aspettavo una reazione, anche Paris. Secondo set io volevo che mi dava qualcosa, invece no. Io cerco anche questo nei ragazzi. Con Valsecchi ho avuto fortuna. Prima i set non ha giocato benissimo, poi ha ripreso. Va bene, io cerco anche questo. Adesso è un periodo in cui me lo posso permettere. È un periodo in cui me lo posso permettere. Non era quello il problema. Benz, Shaloh, Valsecchi, Diamantini, X o Y. Non era quello il problema. Il problema è che il gruppo ha giocato male. Tenere fuori Benz nel quarto set è anche un segnale per tutti. Esatto, perfetto. Forse sarei l'unico a dirlo. Io l'ho immaginato. È un segnale per tutti, ma più che per fuori, per l'esterno, che mi interessa molto relativamente, molto poco. È un segnale anche per Shaloh, che voglio dire, deve... tutto, tutto. Esatto. Io ho la fortuna che il club mi ha messo a disposizione delle risorse per costruire una squadra di 12 persone che sono abbastanza equilibrate. I nostri allenamenti, se aveste visto l'allenamento di ieri e l'allenamento di mercoledì, giovedì no perché faccio un lavoro diverso. Noi sembrava una partita, roba che la gente, se fosse venuta oggi, si sarebbe divertita di più. D'accordo? Va bene. Voglio dire, ci sono tanti aspetti. Poi è chiaro che al primo set succede che Benz sbaglia la quarta palla di fila. E Castellano è così, dalla tribuna è così, finito. Ripeto, amico di tutti, nemico in un attimo ci metto. Ci metto proprio un attimo. Santucci ha sbagliato una palla e si è sentito dire qualcosa dalla tribuna. Io ci metto un attimo. Nemico di tutti. Alto. Quali sono le motivazioni che hanno portato a questo tipo di risa? Cioè, se durante la settimana hanno fatto questo tipo di allenamento, se la prima di campionato è andata benissimo, secondo te quali sono le motivazioni? Le motivazioni stanno, perché il primo set comunque eravamo in vantaggio mi sembra per un po' all'inizio. Le motivazioni sono sicuramente di merito di Cantù che veramente ci faceva attaccare due volte per fare un punto. Quindi là diventa difficile, la gestione della mentale della partita diventa difficile. Poi, che cosa succede? Che le bande loro si organizzano, perché mancando l'opposto si organizzano a muro. Enrico Libraro è sempre raddoppiato, Santucci è sempre raddoppiato, Paris è sempre raddoppiato. E diventa difficile poi, l'altra cosa che si aggiunge è che il tuo opposto non va e quindi la testa viene caricata, sopra caricata. Io ci sono stati un sacco di, anzi li ho chiamati sempre time out, un sacco di time out in cui ho predicato un po' di calma. Voglio dire, noi dovevamo ritrovare il ritmo della squadra, del cambio palla, di tutto quanto. Benz, le ho consigliato di non tirare subito forte per tornare in partita, prima la palletta, poi le mani fuori, poi iniziava a tirare forte. Non era giornata su oggi, può succedere, succederà di nuovo. Succederà di nuovo che noi perdiamo in casa, succederà di nuovo che perdiamo con l'ultimo in classifica. Queste cose succederanno. Il campionato, l'anno scorso penso che abbiamo imparato qualcosa. Padova è arrivata sesta lo scorso anno, ha fatto la fine del play-off. Non è una giustificazione, noi non dobbiamo arrivare sesta, noi dobbiamo fare di tutto per arrivare nelle prime posizioni. Noi dobbiamo fare da domani di tutto per non perdere più punti in casa. L'altro giorno vi ho detto, ieri vi ho detto che avremmo fatto di tutto, non volevo perdere nessun punto in casa, ne abbiamo persi tre. Però sono contento. Sportivamente da allenatore della mia squadra, per i miei ragazzi che per me sono i migliori in assoluto, sono dispiaciuto. Cioè da lavorare, lavoreremo. Però se devo guardare l'allenatore che ha rapporto con i tifosi, che ha rapporto con i dirigenti, che ha rapporto con voi, che ha rapporto con gli altri allenatori, mi dispiace. Mi dispiace, sono contento. Il consigliere, in conferenza ha detto che aveva sottolineato un aspetto che forse molti hanno valutato, quella dell'insidio della partita in casa. Hai detto, dopo una partita che finita in trasferta così facilmente, giocare in casa qualcuno potrebbe pensare di fare un solo boccone di cartù, valutando anche gli organici. Sì, io lo dicevo in tutti e due i sensi, sia questo che dici te, che è esatto. L'ho detto anche perché ci ho voluto credere, adesso però ti dico la verità. Uno per questo che dici te, un'altra cosa perché c'è la tensione, però non è possibile. Cioè noi a un certo punto in campo avevamo un ragazzo giovane, che era Belsecchi. La tensione, giocatori come quelli che abbiamo a noi, non la possono sentire. Qua si devono mangiare la rete, il pallone, i pali con gli arbitri, perché non ne parliamo, lasciamo andare. Va bene? E vincere, d'accordo? Poi c'è merito comunque dall'altra parte, c'è sempre qualcuno. Io dico, Cantu ha meritato alla grande per l'organizzazione muro difesa, per, però, no per, però, fatta bene perché il nostro posto non c'era. Perché quando la rete, tecnicamente sto parlando, la rete la utilizzi tutta, costringi il muro avversario a preoccuparsi di più gente. Loro invece si devono preoccupare di metà rete, dal nostro centrale al nostro martello. L'opposto non c'era, Chaloa è entrato, ha fatto il massimo, il segnale gli è stato dato sia a lui che al resto della squadra, finito. Primo set scappatici è stato in panchina. L'altro segnale è anche questo, cioè voglio dire, appena non andava qualcuno giù. Perché ringrazio la società che ci ha messo a disposizione delle risorse per fare una squadra in cui io mi giro e c'ho del materiale umano, dei soldati da mettere in battaglia. Dove si riparte? No, si riparte martedì. Innanzitutto si riparte da due giorni di riposo, totale. Si riparte martedì. Sicuramente più testi nell'allenamento e più esigenti, ma prima di tutto lo saranno loro con loro stessi. Non sarò io a premere sul pedale. Con qualcuno lo farò. Però lo faranno loro. I nostri allenamenti funzionano bene, perché io sono aiutato e coadiuvato da due persone che sono scappatici e fortunati che sanno consigliare. Quindi sono aiutato su questo. Io mi devo preoccupare degli altri dieci, cioè gli altri undici più loro due di tutti i tredici. Però si riparte dai due giorni di riposo, si riparte da martedì esigendo di più da noi stessi, ma lo faranno automaticamente i giocatori. Il primo che non lo fa sarà preso da me. Però non sono preoccupato di questo. E si riparte chiaramente dalla prossima partita da vincere, perché alla fine puoi lavorare bene. Puoi venire qua e dire quello che vuoi. Puoi fare però quello che ti aiuta. E la vittoria. E respirare e assaporare la vittoria.